Buongiorno, buon martedì ai telespettatori della C, subito andiamo a vedere le principali notizie del giorno, intanto in primo piano ancora l'emergenza, profughi, i paesi dell'est bloccano l'accordo su 120 mila ricollocamenti e poi dal governo Renzi il 2015 si chiuderà con una crescita del PIL rivista al rialzo allo 0,9% e la manovra 2016 lieviterà da 25 a 27 miliardi ha annunciato così ieri il premier Matteo Renzi e dal 2017 arriverà una digital tax il Papa intanto apre su Limu con venti alberghi devono pagare dice il Papa e poi la cronaca con il maltempo, un ubifragio nel Piacentino, il bilancio di un morto e due dispersi si cercano padre e figlio, oggi intanto comunque la situazione è in lieve miglioramento e riprendono oggi i lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato sulle riforme, Renzi sfida grasso, decida sull'articolo 2 ma non cambio idea dice, ho detto rottamazione al massimo farò due mandati, se vengo eletto la prossima volta poi vado a casa, afferma il premier, intanto Grillo condannato per diffamazione a un anno di carcere e poi ci spostiamo in Calabria, tanti gli argomenti dalla visita ieri del sottosegretario della presidenza del Consiglio Luca Lotti che è stato a Catanzaro per prendere parte a diverse iniziative politiche istituzionali poi più avanti sentiremo che cosa ha detto in merito proprio ai temi che riguardano la Calabria e la cronaca con una nuova bufera giudiziaria a Catanzaro, 26 indagati tra politici, burocrati, imprenditori, un diffuso sistema di malaffale tra clientele, favori in cambio di prestazioni sessuali e amici degli amici con la scoperta ieri a Catanzaro. E poi ieri tra i banchi con vecchi e nuovi problemi, dunque primo giorno di scuola anche in Calabria la campanella ha suonato per oltre 200 mila ragazzi e ancora la cronaca il porto di Gioia Tauro, snodo cruciale del narcotraffico, una nuova maxipartita di cocaina è stata scoperta proprio ieri dalla Guardia di Finanza nel corso di un blitz allo scalo di Gioia Tauro, oro bianco purissimo che avrebbe fruttato milioni di euro. Dunque questi i principali argomenti che ritroviamo stamattina sui quotidiani e partiamo proprio dai nazionali con i titoli sulla Repubblica, lo vediamo, l'emergenza profughi in primo piano, l'Unione Europea militari contro gli scafisti, ma Bruxelles litiga sulle quote, vertice senza accordo, Schengen rischio Salvini, troppi stranieri in classe, dunque via libera dell'Unione Europea all'uso della forza contro gli scafisti, l'impiego armato e mirato al sequestro e alla distruzione delle imbarcazioni prima del loro impiego per i viaggi dei migranti nel Mediterraneo, la decisione del Consiglio dei Ministri dell'interno dell'Unione Europea. E poi sempre in primo piano sulla Repubblica la svolta del Papa, così titola stamattina giusta Limo quando i conventi diventano hotel. Francesco incalza le gerarchie, le tasse vanno pagate, altrimenti il business non è pulito, afferma Papa Francesco, sempre dalla prima pagina della Repubblica l'inferno al nord per tre ore di pioggia, crolli e frane a Piacenza in Liguria, un morto e due dispersi. In questa foto ecco l'immagine più eloquente di quanto accaduto ieri in questi territori. E poi ancora la cronaca con la storia dei turisti scambiati per terroristi pullman di messicani bombardato in Egitto, una notizia che vi abbiamo raccontato anche ieri nel corso del Tg Mattina. Ma andiamo a vedere come titola sempre stamattina il fatto quotidiano in primo piano le dichiarazioni del Papa che dalla sveglia al governo gli hotel cattolici paghino le tasse, dice Papa Francesco, che scavalca i partiti sulle imposte per gli enti religiosi commerciali. La svolta annunciata a una radio portoghese sembra una risposta alla recente denuncia dei radicali. A Roma il 40% degli alberghi gestiti dalla Chiesa non versa l'Immu un terzo, neppure Tasi e Tarsi. Dunque questo l'impegno, la presa di posizione del Papa. E poi in un titolo a tutta pagina, dopo il Superjet le auto blu costeranno 26 milioni in più. Bando di gara Consip da 106 milioni per il noleggio di 6 mila nuove vetture. Quindi mentre si sbandiera il taglio delle macchine di servizio aumentano i noleggi, 2 mila in più rispetto al 2013, le vendite su ebay, l'incasso è di 850 mila euro come una settimana di leasing del nuovo aereo di Renzi. Quindi dunque continua a soffermarsi su questo tema, il fatto quotidiano. Poi ancora un'altra notizia, Venezia salve le maxi navi grazie a Brugnaro e Moretti. Questi principali argomenti riportati in prima pagina sul fatto quotidiano. Ma adesso ritorniamo sui nostri quotidiani regionali. Partiamo dal garantista. In primo piano, ecco il primo giorno di scuola ieri in tutta la Calabria. Eccolo il titolo. La scuola calabrese non esiste, solo una classe su due ha internet e il 40% degli studenti non legge e non sa fare di conto. il rapporto Save the Children parla chiaro. Quello dei nostri figli è la peggiore istruzione del paese intero e nell'era del web solo pochissimi fortunati hanno la connessione. Dunque questa è l'inchiesta riportata a pagina 3 sul garantista. E ancora l'inchiesta Catanzaropoli è scoppiata proprio ieri a parti agli amici e vigili urbani usati come maggiordomi. Il sistema svelato della procura della Digos coinvolge politici, imprenditori e dirigenti comunali del capoluogo. Alcuni agenti erano impegnati a fare la guardia alle auto dei militanti convocati dal consigliere ed ex assessore regionale Tallini indagato per abuso. Altri erano invitati a portare in autofficina la macchina rotta del funzionario del palazzo. Questo dunque è quanto è stato scoperto ieri e che ha portato all'arresto di diverse persone. Ma più avanti ne parleremo in modo più approfondito. E sempre in primo piano sul garantista. Il pentito, Scopelliti e Caridi trattavano le assunzioni coi clan. Queste le dichiarazioni dunque del pentito, riportato stamattina a pagina 6. E poi la politica con l'arrivo di Lotti. Il PD si riunisce. Ieri a Catanzaro il Renziano è sbarcato dunque nella città capoluogo e dopo l'inaugurazione del nuovo circolo si è diretto a Cosenza per aprire la festa dell'unità regionale. Lotti ha parlato di politica nazionale con la tribolatissima legge di riforma dell'articolo 2 e delle questioni calabresi. E io direi di partire proprio dalla visita di Lotti in Calabria. Ecco può andare in onda il servizio realizzato dalla nostra redazione. Non tutto da Roma ma anche da Catanzaro possiamo lanciare una sfida importante al PD del futuro. E questo l'obiettivo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Luca Lotti evidenziato alla sua riva a Catanzaro per prendere parte a diverse iniziative politiche. Subito dopo l'inaugurazione della nuova sede del Partito Democratico Lotti si è spostato negli uffici della diocesi di Catanzaro dove ha incontrato il presidente della conferenza episcopale Calabra Vincenzo Bertolone. Quindi il sottosegretario ha incontrato i vertici del PD calabrese a partire dal presidente della regione Mario Liverio. Nel corso della sua visita Lotti ha ribadito l'attenzione del governo per la Calabria. Cercheremo di capire come possiamo dare una mano alla Calabria, al governo della Calabria tramite il governo nazionale. L'abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto in passato. Tutte le volte che il presidente del Consiglio e membri autorevoli del governo, ministri, sono venuti in Calabria e lo faremo anche oggi ascoltando gli antilocali e il territorio. Questo argomento punta questa mattina nel quotidiano del Sud che apre. Eccolo il titolo, basta beghe. Adesso i risultati. La dichiarazione del sottosegretario della presidenza del Consiglio che avvia la campagna sul Sud del PD. Faccio a faccia tra Oliverio e Lotti nel corso della visita in Calabria. L'incontro con il presidente della CEC e la cena arrende a bordo piscina. Basta con gli scontri, le polemiche, i problemi nella sanità calabrese ci sono e vanno affrontati perché tra cinque anni i cittadini valuteranno l'operato della regione sui risultati. Questo è il messaggio lanciato dal sottosegretario della presidenza del Consiglio Lotti ieri in Calabria per avviare la campagna sul Sud del PD. E poi ci spostiamo a Vibo Valencia. Gli uffici restano via soltanto il prefetto. Nuovi particolari sulla questione della soppressione. Intanto oggi incontro con Alfano di una delegazione della Casa delle Libertà che ha chiesto e ottenuto appunto questo incontro per scongiurare la soppressione della prefettura di Vibo Valencia. Adesso vediamo nell'articolo che è stata scongiurata invece il ridimensionamento della questura e del comando dei vigili del fuoco. E sempre in prima pagina stamattina sul quotidiano del Sud dell'altra vicenda della neonata morta. Tutti i dubbi dei genitori interrogativi in una dettagliata denuncia, inchiesta interna della regione. I genitori della piccola Gaia, così il nome della neonata morta per avere inalato meconio 36 ore dopo la nascita, chiedono giustizia. In una dettagliata denuncia manifestano tutti i loro dubbi, specie sul mancato cesareo e sugli strani dolori della partoriente. Intanto la regione avvia un'inchiesta interna per fare luce su questa vicenda, su questo ennesimo caso di presunta mala sanità. E ancora si parla di ambiente, di rifiuti in particolare, un progetto per superare la crisi, le proposte dell'assessore Rizzo. Ancora la politica, il ministro Boschi, sogni di cambiamento e il femminismo superato. E poi un argomento che riguarda la scuola, avvio a singhiozzo e cancelli saldati e save the children, boccia la Calabria. Negativo indice di lettura e scarsa conoscenza di matematica. Catanzaro, aule semivuote per assemblea dei docenti, a Montalto protesta contro il comune moroso. Dunque il primo giorno della buona scuola con problemi in Calabria, Catanzaro, lezioni a singhiozzo, a Montalto cancelli saldati per protesta. Dunque questi i principali argomenti. Adesso ci fermiamo per dare spazio alla nostra prima rubrica, Accade Oggi. Il 15 settembre 2006 muore a Firenze Uriana Fallaci. Partecipa giovanissima alla guerra partigiana contro il nazifascismo ed è poi inviata speciale del Corriere della Sera. Prima corrispondente di guerra, Fallaci lavora in Vietnam, Pakistan, Sud America e Medio Oriente. Dopo l'11 settembre i suoi interventi sullo scontro di civiltà tra Occidente e Oriente con l'avversione per qualsiasi forma di integralismo religioso finiscono per trasformarla in paladina del fondamentalismo occidentale. Ecco, riaccoci in studio. Continuiamo a sfogliare i giornali dal quotidiano del sud in primo piano. Si parla della scuola. Ieri il primo giorno per gli studenti calabresi suona la campanella per 291 mila studenti della regione, ma non tutto è filato liscio. Un primo giorno tra gioie e dolori. A Catanzaro un avvio a Singhiozzo, aule semivuote per l'assemblea dei docenti. A Montalto invece, lo abbiamo già detto, comune moroso. Il proprietario salda le porte della scuola media. Impedisce dunque agli studenti di poter fare lezione al loro primo giorno di scuola. E poi c'è l'indagine pubblicata da Save the Children. Matematica, quella sconosciuta. Floppa anche in lettura e accesso al web. Dunque a quasi la metà dei ragazzi calabresi mancano le competenze minime in matematica. Così il rapporto pubblicato oggi dal quotidiano del sud. Ancora continuiamo a sfogliare il giornale. Vediamo altri argomenti. La sanità in primo piano. Il commissario non è eterno. Questo il virgolettato a tutta pagina. Dopo la visita al vescovo e il dibattito, la serata di Lotti si è conclusa con una cena di Renziani a bordo piscina a Rende. Nel faccia a faccia con Oliverio, Lotti ha ammonito. Basta di atribbe affrontare i problemi. Così ha detto al presidente della regione Calabria, Mario Oliverio. Sempre dalle pagine del quotidiano del sud. Un altro argomento riguarda l'inchiesta che è scoppiata proprio ieri a Catanzaro, Palazzo De Nobili nella bufera. Un nuovo terremoto giudiziario scuote il comune. In 26 finiscono nella rete. La procura emette un avviso di chiusura delle indagini per politici, funzionari, vigili, professionisti e promoter. Ma facciamo il punto della situazione nel servizio realizzato della nostra Gabriella Passariello. Una nuova ondata di indagati travolge Palazzo De Nobili nell'inchiesta aperta dei sostituti procuratori della Repubblica di Catanzaro, Gerardo Dominiani, neoprocuratore aggiunto di Reggio Calabria e Graziella Viscomi sul malaffare nel comune del capoluogo. Sotto accusa 26 persone tra consiglieri, assessori, dipendenti comunali, professionisti, titolari di alcuni esercizi commerciali, vigili urbani e agenti di spettacoli. Destinatari di un avviso di conclusione indagine che vale come avviso di garanzia Massimo Lomonaco, Roberto Politi, Giuseppe Cardamone, Rosaria, Paola Barbuto, Carolina Ritrovato, Salvatore Sangiuliano, Maurizio Raffaele, Francesco Leone, Giovanni Merante, Rita Cavallaro, Francesco Eugenio, Giovanni Lorenzo, Anna Scutieri, Patrizia Verdoliva, Salvatore Tarantino, Giuseppe Antonio Salerno, Domenico Tallini, Carlo Nistico, Raffaele Luigi Riso, Salvatore Megna, Luciano Paparazzo, Pietro Folino, Gianmarco Plastino, Salvatore Mauro, Giuseppe Curcio, Emilia Laureana. Le accuse vanno a vario titolo dal peculato all'induzione in debita, dare e promettere utilità alla truffa, all'abuso di ufficio e ancora turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale, estorsione, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e dai pubblici ufficiali incertificati e autorizzazioni amministrative, falsità in registri e notificazioni. Altri particolari che emergono da questa inchiesta vengono riportati stamattina sulle pagine del quotidiano del sud, l'inciucio della notte piccante 2013, forniture e allestimenti dettati da rapporti personali, se prima il tormentore era notte piccante, sì notte piccante no, ora in molti rifiutano l'idea che la serata quest'anno possa allietare un sabato di fine estate per via di questa inchiesta scoppiata nella città capoluogo di Regione. Sempre dalle pagine del quotidiano del sud il maxi sequestro, l'ennesimo direi al porto di Gioia Tauro, la bianca nascosta nel caffè, il container esaminato dalle fiamme gialle era arrivato dal Brasile, circa 120 kg di cocaina molto pura trovata in tre borsoni. Ma andiamo a fare il punto nel servizio di Francesco Creazzo. Un altro sequestro di cocaina nel porto di Gioia Tauro, uno degli hub del narcotraffico internazionale. Gli uomini della Guardia di Finanza, coadiuvati dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, hanno individuato e sequestrato ieri 119,35 kg di cocaina purissima che, una volta tagliata e trasformata, sarebbe fruttata nella vendita al dettaglio oltre 24 milioni di euro. Il carico di polvere bianca è stato trovato all'interno di tre borsoni nascosti dentro un container che trasportava caffè. Il carico era partito da Santos in Brasile ed era destinato al porto di Trieste. Il sequestro dell'ingente quantitativo di droga è stato possibile grazie all'incrocio dei documenti relativi al carico e all'ormai consueto utilizzo della tecnologia scanner, che consente di rilevare e mostrare parti nascoste dei container. L'operazione conclude un'estate calda sul fronte della droga nello scallo della Piana. Non più tardi dello scorso agosto, le fiamme gialle avevano sequestrato altri 49 kg di cocaina, nascosti in un container in mezzo a un carico di totani surgelati. Da Gioia Tauro a Vibo Valencia. Da Vibo se ne va solo il prefetto, così oggi titola il Quotidiano del Sud. Il piano prevede il mantenimento degli uffici, ma a dirigere sarà Catanzaro e intanto il coordinatore del nuovo centrodestra Alfonso Grillo oggi in riunione con Alfano. Sempre da Vibo Valencia e sempre dalle pagine del Quotidiano del Sud restiamo in argomento, ecco, continuiamo a parlare della paventata soppressione della prefettura. Uffici a Vibo, via solo il prefetto, Grillo, svela al Quotidiano il progetto del governo. Oggi intanto l'incontro con Alfano. Il rappresentante del governo sarà quello di Catanzaro. Breve riordino con in fondo novità di rilievo. Secondo quanto appreso in queste ultime ore, scrive Francesco Mobilio, il taglio delle prefetture non è stata una decisione del Ministero dell'Interno, ma rientra in un piano di contenimento delle spese predisposto oltre un anno fa dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, su sollecitazione del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. E poi Cavallaro plaude a costa, ma avverte bandire qualsiasi iniziativa isolata, così il segretario nazionale della CISAL, Franco Cavallaro, sempre da Vibo Valencia, patto per far ripartire il Vibonese. Sul tavolo tematiche che verranno approfondite nel corso dei successivi incontri ad hoc, primo approccio tra Confindustria e sindacati con la politica. E ancora si parla di sviluppo, sette ambiziosi obiettivi da raggiungere, riuscire a tagliare di un punto la percentuale delle persone rimaste senza lavoro, l'agenda export, opere pubbliche, fondi comunitari e occupazione. Ancora un ultimo argomento che riguarda la cronaca Scugli sapeva chi lo voleva morto, il titolo a tutta pagina, riferiti particolari anche sull'omicidio Fortuna e quelli tentati di Medis e Matina, il pentito a Moscato sul tentato omicidio del braccio destro di Mantel. Dunque continuano le rivelazioni del testimone di giustizia Moscato. E adesso continuiamo ad approfondire le pagine interne del giornale, ripartiamo sempre dal quotidiano del Sud, andiamo avanti, ecco la notizia del presunto caso di malasanità, Gaia, ecco i dubbi dei genitori, dettagliata la denuncia sul caso della piccola morta per aspirazione di Meconio, interrogativi sul mancato cesario e gli strani dolori della partoriente. Poi sulle pagine del quotidiano viene pubblicata una lettera aperta, i familiari chiedono giustizia e ci hanno lasciati soli, così i genitori della piccola di poche ore morta all'ospedale di Cosenza, l'annunziata di Cosenza dopo essere stata trasferita. E sempre dal quotidiano del Sud altre notizie, perde la vita rincorrendo l'auto, ecco l'altra notizia di Cronaca, il violento impatto sull'asfalto in un lato scampo ad un 84enne, non inserisce il freno a mano, corre dietro alla macchina ma inciampa e muore. Da domani arriva questa notizia di Cronaca, vittima un 84enne e poi da Catanzaro tenta il suicidio in carcere, un ventenne ha cercato di impiccarsi in carcere. E poi parliamo di un interessante incontro avvenuto nelle scorse ore, un progetto per superare la crisi rifiuti, questo è il titolo, la regione in ogni caso non rinuncerà al principio della società miste, la proposta dell'assessore Rizzo per normalizzare il settore. È ancora ambiente in primo piano, discarica di Borgia e i 5 Stelle chiedono l'intervento del ministro Galletti, parentele Nesci presentano un esposto in procura a Catanzaro. E ancora da Catanzaro chi salverà il centro storico, il titolo a tutta pagina. Corso Mazzini ostaggio di auto e feudatari, la diffida si trasforma in un passo, il comune sbandiera le telecamere in galleria, ma le serrande restano chiuse. Dalla mezzia terme, macchina comunale sempre lenta, rammarico del sindaco dopo tre mesi ancora non siamo riusciti a velocizzarla. Illustrate intanto le linee programmatiche, mascaro evasori al 50%. Adesso ci trasferiamo in provincia di Reggio Calabria, eccolo il titolo d'apertura, si parla ancora delle feste mariane, mi sono perso la filodiffusione, la lotta senza quartiere all'occupazione del suolo pubblico schianta, oggi sarà ripristinato il servizio che non è riuscito a partire sabato. Da Reggio a Cosenza una festa speciale per il primo giorno di scuola, così riporta stamattina il quotidiano del sud, al via Milelli l'ansia si esorcizia con il ballo, favorisce l'integrazione tra i nostri alunni. E adesso è il momento di collegarci con il nostro meteorologo, l'ingegnere Ugo Notario, e andiamo a vedere le previsioni del tempo. Amici di Reggio, una giornata di martedì caratterizzata dall'esaurirsi della condizione temporalesca sul settentrione d'Italia e dalla rimonta dell'anticiclone subtropicale che si fonde con quello azzoriano sulla sinistra dello schermo, dando luogo a una situazione di stabilità meteorologica che porterà una fase di medio tranquillo, almeno per quanto riguarda il meridione d'Italia. Lo vediamo anche dall'analisi alle medie altezze, 1500 metri d'altezza, la Calabria di una colorazione rossa abbastanza intensa, espressione del fatto che comanda ancora la scena l'anticiclone subtropicale, quello africano, quello evidenziato in viola sulla nostra cartina, che dà quella condizione di stabilità meteorologica che permarrà sul meridione d'Italia ancora per qualche giornata. Passando uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola possiamo dire che gli ultimi fenomeni sono presenti sul nord-est e sull'alto Adriatico, stando appunto ormai gli effetti esauriti di quella perturbazione che ha portato in maltempo sul settentrione italiano dalla pomeriggio di domenica e poi a seguire nella giornata di lunedì. Ancora nuvolosità residua di tipo cumuliforme a ridosso dell'arco alpino, più accentuata sul settore dolomitico, sul Veneto e sull'alto settore Adriatico con fenomeni in fase di totale esaurimento. Centro d'Italia con ampie fasi soleggiate e rimonto dei valori termici sul settore tirrenico, ancora copertura nuvolosa accentuata sul settore Adriatico con gli effetti di quell'aria ancora instabile delle giornate trascorse. Meridione d'Italia invece sotto l'azione dell'anticiclone subtropicale con valori termici che sono nuovamente risaliti con punte di 27, 28, 29 gradi lungo i settori costieri di renico e ionico, fasi soleggiate anche ampie su entrambe le coste calabresi con una formazione di nuvolosità cumuliforme all'alto piano silano, sulle serre, nell'entroterra crotonese, cosentino, catanzarese nel corso dei pomeriggi, ma in un contesto comunque di stabilità meteorologica che tenderà a permanere anche per la giornata di mercoledì in assenza di fenomeni con condizioni ancora dal sapore estivo. Siamo ancora sotto gli effetti dell'anticiclone subtropicale, quello con matrice africana che è stato responsabile dei valori record di caldo e di temperature ben oltre la media del periodo durante quest'estate 2015, che è stato, lo ricordo ancora una volta, una delle più calde degli ultimi decenni, quindi in un contesto dominato dall'anticiclone africano che ancora oggi fa sentire la sua presenza e che non dà segnali di completo cedimento. Direi che per oggi è tutto, un saluto da Buonotaro per gli amici di LACI. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie.